Oh, e anche aprile è passato. Tra Pasque, Pasquette, liberazioni varie, primo maggio, si può ricominciare a parlare di guerra. Dovete scusarli, ma la propaganda occidentale a certe ricorrenze ci tiene. E quindi tra un casatiello e un concertone la guerra aveva fatto ponte lungo, un po' come gli astensionisti del DEF. Anche il primo maggio è andato via e tutte le polemiche si porta via. Polemiche che mi avete chiesto di trattare, ma che francamente si possono riassumere così. Oh, e quindi adesso possiamo tornare ad occuparci di guerra, a scannarsi sui social più di quanto non si sia fatto alle piazze della liberazione. Finite anche a suon di manganelli, ovviamente per difendere le bandiere della Nato, manco a dirlo. E si torna a parlare di sta benedetta controoffensiva ucraina. Oh, gliel'hanno fatta. La si è attesa più di un film della Marvel. Traslittamenti di data, impossibilità tecniche, alla fine pare che ci siamo. I preparativi sono in dirittura d'arrivo, così come ha dichiarato il ministro della difesa, Reznikov. Si attende solo la decisione dello Stato Maggiore. Insomma, gli ultimi dettagli e poi ci faranno sapere a che ora e quando. Certo che il comandante Prigozhin una sua idea se l'è fatta. Questa controoffensiva potrebbe coincidere con il 9 maggio, giornata della liberazione russa, la volontà di Kiev di rovinare la festa ai russi. Insomma, anche il nemico sa più o meno quando. Ora dico, questa descrizione vi quadra? Vi scorre liscia come l'olio? Cioè, per voi è normale che una controoffensiva venga annunciata, tanto da rendere il nemico pronto anche sulle ipotetiche date? Accidenti quanto sono lontani i tempi in cui per decifrare gli attacchi dei tedeschi si lavorava con complessissimi sistemi informatici, per l'epoca, di decrittazione dei messaggi radio. Sono lontanissimi i tempi di Colossus, il primo calcolatore della storia, concepito da un gruppo di matematici inglesi per decodificare le comunicazioni segrete tra Hitler e i suoi generali. Questa storia ve la racconto giusto per farvi capire come funziona nella realtà, non nella propaganda. E nella realtà funziona che anche io con i miei devo parlare in codice perché c'è la possibilità che il nemico possa ascoltare e capire gli attacchi, gli spostamenti, le armi che io ho a disposizione, in modo tale che io possa giocare sull'effetto sorpresa che dovrebbe essere proprio leggerissimamente una delle caratteristiche di una controoffensiva. Il nemico dovrebbe essere molto bravo a decriptare quello che dico se vuole avere una speranza di giocare d'anticipo. Quindi vi racconto sta storia. I tedeschi per comunicare tra di loro usavano una macchina efficiente, la Lorenz SZ42, che era un sistema complesso con chiavi di codifica che consideravano praticamente inviolabile. Fino a quando, il 30 agosto del 1941, un operatore che agiva dalla Grecia manda ad un suo corrispondente un messaggio particolarmente lungo. Il corrispondente lo recepisce male e un po' imbarazzato chiede all'operatore di ripeterlo il messaggio. L'operatore, molto innervosito, perché anche mandare due volte lo stesso codice era un rischio, suo malgrado però ripete il codice. Ad origliare, dall'altra parte però, ci sono gli inglesi. Quando ascoltano la conversazione e si ritrovano davanti due codici praticamente identici, capiscono d'aver fatto bingo. Cominciano quindi ad intuire le regole che muovono quel sistema di codifica. E quindi da quel momento, piano piano, ma con lentezza perché con carta e penna, si riusciva in qualche modo a decifrare questi messaggi. Il piccolo problema erano le tempistiche, troppo lunghe. Ecco, immaginate riuscire a decifrare un codice in un paio di settimane per poi scoprire, a messaggio svelato, che nella notte di due settimane prima avrebbero compiuto un attacco. L'attacco, quindi, è bello che è andato. Allora si sentì l'esigenza di trasferire quella conoscenza ad un calcolatore. Ed è grazie alle intuizioni del matematico Max Newman e all'ingegnere Tommy Flowers che in nove mesi si creò Colossus, il primo calcolatore in grado di decodificare i messaggi dei tedeschi. È nel gennaio del 1944 che Colossus decifra con estrema facilità il suo primo messaggio. Sono passati ben quattro anni da quella comunicazione dell'operatore in Grecia al corrispondente che non aveva capito. Ma da quel momento Colossus ricopre un ruolo fondamentale. Diventa l'arma per giocare d'anticipo. E non verrà, infatti, mai più spento fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Vabbè, Pabble, ma era la Seconda Guerra Mondiale, direte voi? Certo, dico io, lo sviluppo delle tecnologie permette sicuramente di non dover ricorrere a questi sistemi di codifica per che si possa parlare più liberamente e magari sicuri di non essere ascoltati. Però dalla situazione descritta agli annunci ufficiali di controoffensiva mi pare che ce ne passa un mare. Perché qui siamo realmente al surreale. Pronto Putin? Sono Zelensky, guarda che la controoffensiva la facciamo il giorno tot alle ore tot. Poi, che armi abbiamo? Già lo sai perché pure su quelle mettiamo i manifesti, insomma, fai tu. La presa per culo è arrivata pure da Lercio. E questa non è una controoffensiva, è un accordo de'narissa tra Pischelli. Oh, se vede mai quattro al parco degli acquedotti? Così semenamo. Eh dai, vi prego. Ah, e nel caso annunciare la controoffensiva con i manifesti non bastasse, è stato opportuno anche sottolineare gli obiettivi della controoffensiva. Beh, che fai? Gli dici tutto, non gli dici la cosa più importante? E tra gli obiettivi è ricicciata la Crimea. Olè! Anche di quella ne parlavano già un anno fa, proprio a inizio conflitto fresco fresco. Poi dopo sembrava che avessero capito che l'obiettivo fosse impossibile, fino a che è sembrato che ci avessero levato mano. Anche in base a quell'apertura al dialogo tra Zelensky e Xi Jinping. Invece adesso, ta-dan! Rieccola. Riciccia la famosa linea rossa. Già, perché la Crimea ormai fa parte della federazione russa da già otto anni. E Putin la considera incedibile. È sempre stata infatti la Crimea ad essere considerata uno dei punti di non ritorno. Quello che divide tra un conflitto territoriale e un conflitto mondiale. Un territorio da 2 milioni di persone che Zelensky ha dato conferma essere uno degli obiettivi della controoffensiva. Ma se questa offensiva è stata così a lungo ritardata, dei motivi ci sono. Questi motivi forse hanno poco a che vedere con le difficoltà del territorio e l'impossibilità di utilizzare i carri armati nel fango. Molto più probabile che abbiano a che fare con il numero consistente di morti nell'esercito ucraino, soprattutto dopo il tritacarne di Bakhmut. Eppure la propaganda non permette spazio a dubbi. L'annuncio e i toni trionfalistici della controoffensiva non vengono minimamente messi in dubbio. Nessuno si domanda se sia effettivamente fattibile, se abbia piuttosto lo scopo appunto funzionale e propagandista del continuare ad inviare armi. Così come per la propaganda non viene messa in dubbio nemmeno la riconquista della Crimea, che sarebbe un processo che durerebbe anni, con un dispiego di forze di cui l'Ucraina in questo momento non gode, con la Cina alle spalle della Russia che rende il tutto non infattibile, letteralmente impossibile. Però si respira un clima di certezza nei riguardi di questa controoffensiva. Noi ad esempio abbiamo detto che siamo pronti a scommettere sulla vittoria dell'Ucraina. Lo abbiamo detto pochissimi giorni fa, quando c'è stata la conferenza bilaterale sulle ricostruzioni in Ucraina. Sul tema delle ricostruzioni, all'Italia è toccato il Donetsk, uno dei territori che ha visto i conflitti più efferati e dove si svolgono ancora oggi asprissimi combattimenti. Si sa, al cane più fedele si dà sempre il premietto più gustoso, un territorio che abbiamo contribuito a distruggere con l'invio di armi e che oggi vogliamo ricostruire. Eh che ce vuoi fa, so questi i giochini della guerra. Abbiamo anche una certa fretta nelle ricostruzioni. Il governo Meloni ha infatti invitato gli imprenditori ad investire adesso anche a guerra in corso, a scommettere sulla vittoria dell'Ucraina. Non abbiate paura di scommettere sulla vittoria dell'Ucraina. Riconquista della Crimea, controffensiva, ricostruzioni, sono tutte legate da un perché. Il perché è semplice, la propaganda non può morire. Non più ormai. Siamo andati talmente tanto avanti che non possiamo più né scendere né salire. Scendere né salire! Né scendere né salire! La Cina è all'orizzonte perché vuole togliere l'egemonia occidentale dal mondo. Voi pensate che se noi ci togliamo dal gioco adesso ci tratterebbero con i guanti? Verremmo stritolati, schiacciati, ricordati come quelli che hanno aiutato il nemico, esattamente come tutto il resto dell'Occidente. Non abbiamo più una possibilità di poter tornare indietro. Questo perché abbiamo avuto una politica europea incapace di domandarsi su quelle che sarebbero state le conseguenze. Perché è letteralmente dal 24 febbraio che è stato tutto un trionferemo, faremo, senza che nessuno abbia mai fatto una domanda. Cosa succede se non accade? Cosa succede se in Crimea non arriva la riconquista ucraina ma la terza guerra mondiale? Cosa succede all'economia di chi ha sostenuto inviando armi all'ipotetico sconfitto? Allora siccome non si può tornare indietro ormai bisogna solo andare avanti, convincersi che si può fare. Un autoconvincimento in pratica. Un po' come un pugile suonato che al quarto round pensa di poter mandare a segno il colpo decisivo quando non c'ha manco la forza di sollevar Guantone. Certo si può fare, sostenere, inviare, ricostruire. Per Tajani si può pure far giro d'Italia partendo dall'Ucraina. E Di Maio mutissimo. Altro che Libia e Libano. Tutto si può fare. La cosa che mi preoccupa non è l'Occidente che ha bisogno di ricorrere a questa propaganda perché non può fare altro. La cosa che mi preoccupa è che dopo tutto, dopo un anno, dopo tutte le evidenze c'è ancora chi il giochino della propaganda non l'ha capito. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube e agli altri indirizzi social che trovi qui. Se poi vuoi sostenere il progetto Pabboli, un semplice caffè, una piccola donazione all'ImpePol che trovi qui sotto. Ciao e a presto!